Dopo il successo in Sardegna, il campo largo che vede insieme Partito Democratico e Movimento 5 Stelle punta al bis in Abruzzo e la segretaria Dem, Ellie Schlein, non lo nasconde. In Abruzzo il centro-sinistra al completo può regalare un'altra sorpresa. La vittoria di domenica dimostra due cose, che la Premier non è imbattibile e che se stiamo insieme tutto diventa possibile. Luciano D'Amico, la Sardegna ha dimostrato concretamente che questo centro-destra si può battere? Ha dimostrato che facendo un programma di governo, volto a risolvere le criticità di quella regione, i sardi poi lo hanno apprezzato e quindi hanno consentito all'affermazione della Presidente Todd che si è affermata proprio per ciò che ha fatto, perché è riuscita ad interpretare molto bene i bisogni e le necessità e offrire delle soluzioni concrete. Sono convinto che lo stesso modello, lo stesso metodo applicato anche in Abruzzo, come stiamo facendo, ci consentirà di ottenere il consenso degli abruzzesi. Ora infatti i riflettori sono puntati tutti sull'Abruzzo, si attende il test elettorale del 10 marzo prossimo. Sarà un test molto importante per la nostra regione, perché sono convinto che l'Abruzzo meriti sempre di più un'attenzione, è una cura particolare e una cura che nel nostro programma viene posta al centro dell'azione politica del futuro governo regionale. Sono convinto che un'adesione degli abruzzesi a questo programma possa rappresentare un eccellente esempio anche per l'Italia. Approvare i programmi elettorali votando con il consenso espresso nelle elezioni significa riconoscere che quei programmi sono in grado di rispondere ai problemi, in questo caso della regione Abruzzo, io auspico che possa accadere anche in altri luoghi. Da quale tema ripartire? Qual è il principale argomento da affrontare? No all'autonomia differenziata, grande piano di rilancio infrastrutturale, definizione di una politica economica regionale e poi sanità, sanità, sanità per rimuovere tutti gli ostacoli che oggi impediscono agli abruzzesi di avere un'assistenza sanitaria degna di questo nome.